Oggi parliamo del sito web della vostra struttura ricettiva. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai siti web. Ci sono altri video un po' più tecnici, anche un po' più datati, che ho fatto in passato, però oggi vi parlerò di alcuni argomenti in particolare che vedremo tra pochissimo. Prima di iniziare però iscrivetevi al canale e attivate le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Bene, com'è nata l'idea di fare questo video? In realtà è successo per due situazioni diverse, una per una consulenza che ho fatto, della quale vi parlerò breve, è una per un reel che ho visto recentemente. Bene, praticamente ho visto il video di questa web agency, se non mi sbaglio, la quale ricostruiva una chiamata effettuata con una cliente. Praticamente insunto che cosa era successo. Loro avevano creato a queste persone il sito web, questa azienda aveva creato il sito web, avevano, questa azienda non aveva pagato anche dopo sei solleciti, e loro che cosa hanno fatto? Hanno oscurato il sito web. E poi, vabbè, c'è stata tutta la diatriba, guarda se tu mi riattivi il sito, ma io ti pago, ma non funziona così, eccetera. Ora, tolto il fatto che non sono assolutamente d'accordo a ricostruire queste chiamate, ma vabbè, posso capire la finalità di marketing, ma io mi vorrei focalizzare sulla questione, nel senso che loro non hanno pagato, non hanno pagato il dominio, eccetera, e non hanno più accesso al loro sito web. Che poi magari è sbagliato da parte mia dire il loro sito web, perché effettivamente, a quanto pare, il sito non era loro. Ma facciamo un altro esempio, ovvero quello che vi dicevo di una consulenza. Mi è capitato una consulenza durante la scorsa settimana con una persona fantastica, molto gentile, la quale mi stava raccontando che aveva perso il sito web, poiché interrotta la collaborazione con, chiamiamo, webmaster, in questo caso, gli hanno tolto il sito e quindi in conseguenza perso anche il dominio. Ora, voi capite bene che non è sensata questa cosa. Se voi non pagate per un servizio, non viene erogato questo servizio, il sito web non vi viene consegnato e va bene, finisce lì. Ma voi capite bene che non è normale che voi non siate proprietari del vostro sito web. Io perché ci tenevo a fare questo video? Perché purtroppo è una cosa che all'inizio della mia carriera è capitata anche a me. Mi sono affidata in passato a una persona, avevo chiesto un preventivo per fare il sito web. Calcolate che non era il primo scappato di casa in quel momento e non era manco il preventivo più economico, perché magari mi direte, sì, vabbè, ma se è certo l'economicità. Ah no, assolutamente. Era il preventivo più alto, ma era una persona che sembrava lavorare secondo i miei standard. A differenza degli altri che erano partiti, vai col preventivo, era una persona che mi aveva fatto un'analisi, ha detto, guarda, hai bisogno di questo? Anche se era il preventivo più alto, mi aveva convinto. Durante l'organizzazione e la creazione del sito ci sono stati diversi problemi, nel senso, ah no, oggi non ho tempo perché devo andare a cercare una sala feste. Già si rispose. Oggi così, oggi con là, va bene, alla fine il sito comunque viene pagato tutto e il sito viene consegnato. Il problema è che io non avevo accesso al mio stesso sito, calcolando che hosting e dominio erano pagati da me. Io non avevo le credenziali per entrare come admin. E voi mi direte, vabbè, non ti affidi a loro, ok. In quel caso non c'era stato nessun problema. Cosa succede? Che questa persona a un certo punto inizia a sparire, non riuscivo più a contattarla, fino a quando un giorno io faccio, mando down il mio stesso sito web perché faccio un errore. Santo site ground, perché io ho l'hosting di site ground che quel giorno era pasquetta, non me lo scorderò mai, mi ha aiutata, nel senso che io li ho chiamati, ho spiegato la situazione, mi hanno detto, guarda, non ti preoccupare, possiamo rimandare acqua al tuo sito. Dovevo entrare nella parte admin. Ma io non potevo. Che cosa è successo? Poi grazie all'assistenza di site ground, dopo che ho spiegato tutta la situazione, eccetera, sono riusciti a farmi entrare nel mio sito e a riappropriarmi di tutte le credenziali, eccetera, perché io per inesperienza mi sono affidata a questa persona e nel momento in cui si era interrotta la collaborazione era sparita, anche se lo contattavo per affidare altro lavoro, non rispondeva più. Quindi, quel giorno mi ha salvata site ground, se no capite bene che io non potevo fare più una modifica a mio sito, o in quel caso non lo potevo più riportare app. Capite bene, questa non è una cosa normale, non può esistere una cosa del genere. Quindi, purtroppo, poi che cosa sta succedendo? Che andate a pagare piattaforme come, ecco, non voglio fare nomi, piattaforme che vi offrono una sorta di sito web, pagando una fee, dove voi poi non avete nemmeno la profilazione dei dati a vostro nome. E quindi avete anche delle limitazioni a livello di marketing. Voi dovete normalmente tutelarvi, capite che dopo questa esperienza, dopo aver visto quel video, dopo aver sentito l'esperienza di questa persona, io mi sono ritrovata a far inserire all'interno dei preventivi per il sito web, il disclaimer che dice che né io né i miei collaboratori hanno nessun diritto su quel sito web dopo che è stato consegnato al cliente. Quel sito web del cliente, noi non abbiamo nessun diritto di cambiare le credenziali senza che il cliente ne sappia qualcosa. Perché in quel caso per me è furto, assolutamente. Il sito è stato pagato? Il sito è mio, ok? Tu non mi puoi cacciare fuori e soprattutto voi dovete avere il diritto di non collaborare più con un determinato professionista o una determinata agenzia. Così come è capitato a me. Così come prima io affidavo questi lavori all'esterno, perché non avevo qualcuno all'internamente che se ne potesse occupare, adesso tutto ciò non accade più. ma non ho dovuto far rifare il sito web. Perché il sito web che avevo fatto, o si è mio, dominio mio, tutto carico mio, soprattutto perché all'epoca avevo messo le cose in chiaro, ho detto non esiste che tu mi butti fuori il mio sito, o è questa la condizione, o io e te non collaboriamo, io ho il mio sito web nel quale posso mettere mani. E se sta app, se è visibile online, perché l'ho deciso io, perché io mi pago tutti i miei abbonamenti e sono libera di farci quello che voglio. E se voglio modificare dieci volte una foto, mettere dieci virgole in più e così via, sono libera di farlo, perché sono la titolare e ho le credenziali per entrare. Ora, scusatemi del fatto che mi sono dilungata un po' troppo su questo argomento, però capite bene, ci sono già passata io. Sentire che qualcuno ha avuto la stessa esperienza e ha dovuto rinunciare al sito web che tra l'altro l'ha pagato e anche pagato tanto, sinceramente mi dispiace e spero di aver aiutato qualcuno di voi a conoscere questo vostro diritto che voi avete. Voi avete il diritto di essere titolare del vostro sito web, ma il video non finisce qui, non è solo questo l'unico argomento che voglio affrontare oggi, ma ne voglio affrontare altri due che sono davvero importanti. Mi è capitato proprio oggi di fare una consulenza dove c'era un sito web che era stato rifatto a gennaio. Calcolate che io sto registrando, siamo inizi di maggio. Ecco, c'erano delle foto da paura su questo sito web, ma una foto che ho detto guardate, questa foto a me sembra molto datata, soprattutto perché c'era sullo sfondo un televisore a tupo cattolico. Capite bene che guardi quello e già ti sa di senso di vecchiume, quindi tu dici ok, io vado qui, vado in questa struttura e che trovo. Magari trovo anche qualche pezzo di mobile che va giù perché ti dà un senso di vecchio, di decadimento. Per fortuna mi rispondono no, assolutamente non abbiamo più quei televisori ma da parecchio tempo. Ok, non metterla quella fotografia, non sei obbligata. Però per favore, perché rovinare un lavoro del genere? Io capisco che dovete ancora aprire, dovete rifare le nuove foto, però attenzione, così allo stesso tempo tutta la parte della ristorazione, sì, bella la foto del ristorante, lo ristorante di Stamare, c'era un bel tramonto, fantastico, ma il cibo dov'è? Io voglio vedere, fammi venire, fammi venire l'acquolina in bocca mentre io scorro le foto. Eh no, ma sai, preferiamo fare le foto sul momento, sì, ma adesso, stiamo a maggio, dovete ancora aprire, quando dovete vendere? Quindi, se avete ovviamente delle foto fatte bene, meglio delle foto dell'anno scorso, che non mettere delle foto anonime o niente. Quindi, ecco, bisogna decidere, vale proprio la pena mettere questa foto? In quel caso del televisore, no, quella era meglio non metterla. Ma se abbiamo una foto decente di un bel piatto di spaghetti con le vongole, beh, quello invece è il caso di inserirlo, perché ci aiuta a dare più valore alla parte di ristorazione della nostra struttura ricettiva. Altra cosa molto importante è che viene sottovalutata è la privacy policy e soprattutto anche la cookie policy. Normalmente la cookie policy viene ridotta a un bottone, se vengono utilizzati dei plug-in che riducono un bottone, finisce lì, ma in realtà non è così. Ma quello che mi prevede dirvi è, mi raccomando, la privacy policy, per leggere la dovete avere e la privacy policy non si può ridurre a un testo copiato dal primo sito web, magari di quello del vostro competitor, no, deve essere fatta ad hoc. La privacy policy, non averla, vi porterà a ricevere multe e poi nel momento in cui mi contattate, direi, ma io voglio fare questo tipo di sponsorizzata, voglio fare questo, e io vi dico, no, mi dispiace, non la potete fare, perché non avete la privacy policy. Quindi, questo aspetto è fondamentale. Voi dovete avere la privacy policy sul vostro sito web e dovete mettere tutti coloro che sono titolari del trattamento dati. È una cosa così importante che per coloro che non hanno il tutto a posto, io mi faccio fare un'autocertificazione. Comunque, quello che io ritengo che non sia una privacy policy aggiornata alle normative vigenti, perché io non posso rischiare di farvi avere problemi legali quando voi stessi magari non avete deciso di porre attenzione su questo aspetto. Quindi, nel momento in cui vi state occupando il vostro sito web, anzi, oppure lo state semplicemente revisionando, andate a vedere se la privacy policy è aggiornata e nel caso non dico di rivolgervi solo a un avvocato, ma ci sono dei siti come Uband che magari vi possono permettere di creare una privacy cookie policy ad hoc per le vostre esigenze. Ovviamente, non vi dimenticate di segnalare nel momento in cui fate il tracciamento dei dati, eccetera. Queste cose sono fondamentali se ad esempio c'è il pixel attivo e tutto, tutto ciò dovete segnalarlo in fase di creazione della vostra privacy policy e di conseguenza poi piattaforme come Uband, io conosco quella però penso che ci siano assolutamente anche altre piattaforme, vi possono aiutare, vi creeranno poi una privacy cookie policy ad hoc per voi. Spero che questo video ti sia stato utile per migliorare il tuo sito web. Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti e poi prima di andar via non ti scordare di iscriverti al canale e di attivare le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Ritorneremo su altri argomenti riguardanti il sito web per le strutture ricettive. Intanto io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Besos!